E' bello il risultato di una squadra ben rodata, una squadra vincente, composta da persone aderenti come dicevamo al territorio, belle persone, quindi un risultato collettivo. Chiara Trulli primo sindaco donna di Spoltore, forse tra virgolette anche l'ultimo? E' una bella soddisfazione, grazie, sarà importante anche caratterizzare la nuova amministrazione con questa sensibilità e con tutta l'esperienza che abbiamo maturato in questi anni. Un lavoro che sarà molto duro perché Spoltore attesa questo passaggio epocale nella nuova Pescara? Sicuramente, sicuramente, sarà un lavoro, dicevo, doppio perché sarà di gestire l'amministrazione e di gestire appunto poi la fase di costruzione della nuova Pescara. I primi cento giorni? I primi cento giorni ci vedranno impegnati sicuramente nel lavorare per continuare sulle progettualità già avviate, le grandi opere che attendono appunto di essere portate a compimento a Spoltore e poi anche sull'ordinario. Rendere la città più bella, più sicura, tutto quello che noi abbiamo detto in campagna elettorale e che manterremo. Sindaco, ex sindaco, contentissimo di questa alternanza, Chiara è bravissima, riuscirà a portare avanti quello che è stato il progetto dell'Aggiunta come lei era vice sindaco e riuscirà a migliorare anche le cose che ci sono da fare in Spoltore e porterà Spoltore nella grande Pescara con grande dignità alla pari con le altre grandi città, quindi possiamo ben sperare sul suo buon operato. Sindaco, lei ci aveva visto lungo perché Chiara Trulli è con lei in giunta già dal primo mandato. Beh sì, lì è stata scelta sostanzialmente anche per il fatto, oltre che per le sue capacità perché era una grandissima, ha raccolto tantissimi consensi ed è per questo che inevitabilmente doveva andare in quel posto di vice sindaco per poi essere da arrivare a fare il sindaco come oramai è acclarato anche se i dati sono ancora ufficiosi però siamo sulla buona strada. Verrei, le liste hanno reso tantissimo, ora sarà complicato fare la squadra? Beh, attendiamo i risultati, comunque sì, le liste sono forti e lo sapevamo perché sono composte da persone amate dai nostri concittadini, quindi ecco questo è stato l'elemento sicuramente differenziale che ci ha fatto avere anche un buon riscontro elettorale. Come ha trascorso queste ore? In grande serenità nel senso che io sono caratterialmente molto rispettosa della sovranità popolare, dalle urne esce solo ciò che vuole la gente, quindi io molto serenamente ho aspettato senza ansia da prestazione perché i cittadini si sono espressi, quindi con rispetto vanno trattate le urne e io così ho fatto. Sarà in carica per cinque anni perché c'è questa incombenza della nuova Pescara? Noi ce lo auguriamo perché dobbiamo continuare a lavorare per rafforzare Spoltore, quindi ci auguriamo di avere in proiezione cinque anni, ma lavoreremo da subito anche perché è una continuità per continuare a dare il meglio alla città. L'ultima, una dedica o qualche dedica per questo risultato incredibile? Allora sicuramente alla mia famiglia devo tanto, a mio marito e anche proprio alla mia famiglia, la mia grande famiglia composta proprio dalle persone, dai miei affetti. Poi chiaramente a Luciano e poi a tutti i candidati, io veramente in questo mese di campagna elettorale mi sono legata con ognuno di loro, sono diventati amici, sono diventati persone con cui condividere le cose importanti, quindi non finirà con la campagna elettorale questo viaggio e quindi con il risultato di oggi, ma io veramente mi auguro con Luciano di portare avanti questi bellissimi gruppi che si sono formati perché le persone sono straordinarie, abbiamo delle persone straordinarie, noi le abbiamo presentate uno a uno in più occasioni, ognuno di loro è un tesoro prezioso per la comunità e ognuno di loro va salvaguardato costruendo una comunità politica importante per il nostro territorio. Grazie, grazie, complimenti. Grazie.